Eleuterio e Milica, storia e paesaggio di una terra tra due fiumi. Si terrà sabato 17 dicembre dalle 8.30 nell'auditorium dell'ITET Luigi Sturzo di Bagheria una giornata di studi per fare il punto sulle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale compreso tra i fiumi Eleuterio e Milica. Il convegno rientra nell'ambito del progetto La Piana della Bagheria, terra tra due fiumi, il piacere della scoperta, finanziato dal MIUR nell'ambito del programma Made in Italy, un modello educativo. Alla giornata di studi prenderanno parte autorevoli studiosi e ricercatori, archeologi e storici, architetti ed urbanisti. Sono invitati a partecipare gli studenti, i docenti delle scuole, le associazioni culturali e tutti i cittadini che vogliono condividere un momento di approfondimento di un territorio che va vissuto, valorizzato e tutelato.